Buonasera, ben trovati con informazione di Arezzo TV. Cominciamo purtroppo con una tragedia. Era andato a pescare ma è rimasto folgorato quando nel lancio della sua canna da pesca ha agganciato i fili elettrici con l'amo. È morto così un ragazzo di 21 anni, Gabriele Lusini. La scossa è stata violentissima tanto da determinarne l'arresto cardiaco alla famiglia ha disposto l'espianto degli organi per la donazione. Chiara Sadotti. Non ce l'ha fatta il giovane, è rimasto folgorato dopo aver rattoccato quella canna da pesca ai cavi della linea elettrica. È deceduto all'ospedale di Careggi dove da ieri sera stava lottando tra la vita e la morte. Ieri sera il drammatico incidente attorno alle 19 in Casentino lungo la pista ciclabile che costeggia il torrente archiano nel comune di Bibiena. Gabriele Lusini stava praticando pesca sportiva quando inavvertitamente con l'amo della sua canna ha agganciato il cavo della corrente elettrica alimentata a 220. Il problema lì non si tratta della corrente di Persia perché la corrente come non è molta, è l'amperaggio che varia. Se è un 220 con pochi ampere, magari prendeva un pizzico, a queste ragazze non si faceva niente ma con un amperaggio alto il problema cambia. Una violenta scossa elettrica che ha provocato l'arresto cardiaco del giovane pescatore. A notarlo riverso a terra ed allertare i soccorsi alcuni passanti. Sul posto i sanitari dell'emergenza urgenza che hanno subito praticato il massaggio cardiaco, poi il disperato volo con l'elisoccorso Pegaso verso l'ospedale Fiorentino di Careggi dove è arrivato in condizioni gravissime. Non è giusto, non è giusto. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Bibbiena sul posto anche questa mattina che hanno subito escluso la responsabilità di terzi. Purtroppo si è trattato di un terribile incidente. E tanti sono stati i messaggi di cordoglio che sono giunti alla famiglia di Gabriele dall'Isis Fermi di Bibbiena che il giovane ha frequentato alla società di calcio del Bibbiena. Il dirigente e i docenti compagni del personale dell'Isis Fermi di Bibbiena si uriscono con affetto ai genitori ed amici di Gabriele. Ottimo studente, sempre gentile e sorridente, viene ricordato da noi con profondo affetto. La società di calcio a Cibbiena, il presidente Mario Rosadini, dirigente di tutto lo staff tecnico si stringono attorno a babbo Fabio e mamma Catiuscia e alla famiglia per la prematura scomparsa di Gabriele, un bimbo, un ragazzo e un uomo che è cresciuto con i nostri colori. E poi il gruppo di pesca, pescatori casentinesi, una notizia che non avremmo mai voluto dare delle sensazioni di impotenza che non avremmo mai voluto passare. Non succedono disgrazie del genere, non possono succedere. Andarsene a 21 anni non è giusto, un ragazzo con un cuore enorme. E con il ritorno della giosta si attiva come ogni anno il protocollo di sicurezza organizzato dall'Asla Toscana Sud-Est. Il protocollo di intesa tra Ministero della Sanute, Regioni e Provincia Autonome che regola gli stati di emergenza in queste situazioni hanno decretato i seguenti provvedimenti. Saranno presenti sei ambulanze tra dentro e fuori la piazza grande, oltre 30 soccorritori forniti dalle associazioni di volontariato Croce Rossa, Ampas e Misericordia insieme a medici e infermieri che hanno una specifica formazione nella gestione dell'emergenza. Anche il corteo dei figuranti che percorrerà le strade del centro storico sarà accompagnato da due ambulanze e vari sanitari pronti ad intervenire. Il piano di emergenza sarà attivo in tutti i momenti della manifestazione, oltre al piano strettamente legato alla giostra che contiene anche una pianificazione dell'assistenza nella settimana del quartierista che si svolge in ogni quartiere cittadino. La presenza di un presidio sanitario nelle varie iniziative permette di poter dare una prima risposta e quantificare l'entità dell'evento la sera della cena propiziatoria. Oltre ai sopraccitati presidi nella sala operativa del 118 sarà presente anche un'unità infermieristica aggiuntiva che farà da giogli supportando il personale di sala e all'occorrenza può essere usato anche come risorsa aggiuntiva sul territorio. A proposito di giostra entrano nel vivo le manifestazioni correlate alla settimana del quartierista. Infatti a Porta del Foro questa sera c'è la Japanese Night per quello che riguarda invece Porta Crucifera, Aperitrogolo e 68esima cena del Maccherone. A Porta Sant'Andrea ci saranno i Marmellata Hashtag 25 che suoneranno i brani di Cesare Cremonini ed infine a Porta Santo Spirito la serata è dedicata alla gara di Freccette e Ping Pong. Andiamo invece sulla vicenda Fimer. Domani ad Arezzo l'udienza decisiva per la nota azienda valdarnese. Alle 14 presso il Tribunale di Arezzo si deciderà sullo stato di insolvenza. intanto la fabbrica rimane presidiata e occupata da parte dei lavoratori. Grazie a Settimelli. Sono ore decisive per l'avvertenza Fimer alle 14 del 14 giugno e in calendario l'udienza per la decisione sullo stato di insolvenza dopo la rinuncia da parte dell'attuale proprietà al concordato e il mancato accordo con il fondo di investimento Greybull McLaren. L'azienda rimane in stato di occupazione il prossimo 15 giugno su iniziativa della CISL. Ci sarà una raccolta firme per la legge ed iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende e poi un concerto della Casa del Vento. Avevamo la soluzione a portata di mano. Avevamo un accordo con un grande gruppo industriale finanziario che sicuramente ci avrebbe aperto porte sia alla soluzione ma anche a alternative da un punto di vista di produzione, da un punto di vista industriale. C'era la soluzione del problema e non si capisce perché l'hanno fatto saltare. Hanno rinunciato e concordato pur di far saltare l'accordo vincolante. Per cui noi avevamo fino al 1 giugno c'era la soluzione del problema. L'hanno fatta saltare perché il sospetto è che sia stata fatta saltare perché in ogni modo vogliano trovare una soluzione che a loro piace di più, che a loro è più conveniente. Il 14 sarete tutti al Tribunale? Tutti al Tribunale. Ci faremo sentire come abbiamo sempre fatto e come stiamo facendo tuttora. dal primo di giugno noi siamo qui 24 ore su 24 e continueremo ad andare avanti per ottenere quello che per noi è un diritto sarosanto. Noi abbiamo voglia di lavorare, vogliamo rientrare a lavorare però in discontinuità con la proprietà. La proprietà noi non la vogliamo più. Questo ci sembra un messaggio chiaro, l'ha ricordato prima Emanuela. Noi ci mettiamo la faccia, tutti voi ce la mettete. Queste storie, queste famiglie non si meritano questo destino. No, le dico solo in due parole. Da qui e non si passa, non si passa più. Vieni qui, vieni davanti a noi e allora poi se ne potrà riparlare. Vieni qui, siamo H24, puoi scegliere qualsiasi orario. Vieni. Ecco, H24, finisco con il rappresentante della RSU, dell'ultima sigla sindacale. Voi tra l'altro dovete alternare i turni anche di notte perché la fabbrica è occupata. Sì, sì, noi dal primo di giugno siamo alternati, praticamente H24, c'è sempre una presenza minima all'interno perché crediamo a questo stabilimento e soprattutto perché siamo un nuovo portante, un'azienda che precisiamo sempre, è tutta italiana, tutta Medellin, si fa dall'inizio alla fine tutta la nostra produzione e quindi insomma, le maestranze ci sono e volevamo ripartire. Speriamo appunto i giudici 14 della modalità per partire velocemente e rapidamente perché la gente non vuole stare di ferma, vuole lavorare. Andiamo a parlare di meteo perché ancora tempo instabile a tratti perturbato sulla Toscana fino a domani, mercoledì 14 giugno, la sala operativa della protezione civile regionale ha perciò prolungato il codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti già in corso in tutta la giornata di oggi e quindi anche per domani. Nel primo pomeriggio sono state le zone di Policiano, Rigutino e Vitiano le più colpite da Quazzoni che hanno allagato varie strade, fortunatamente senza danni. Questa notte ci saranno possibili nuove precipitazioni, domani ancora rovesci e temporali localmente forti e possibili ovunque e più probabili e frequenti dalla seconda parte della giornata con lenta attenuazione delle precipitazioni nel corso della serata. Esserci un progetto di supporto sociale attraverso il gioco e la formazione con laboratori e campi solari per bambini con il contributo del Comune di Arezzo di Estraenergia e Coingas realizzato dalle associazioni ERA, Crescere e Scudo di Pagno. Chiara Sadotti. Si ripete anche quest'anno l'esperienza di Esserci, il progetto di supporto sociale promosso dall'associazione ERA in collaborazione con la Scuderia di Panna e l'associazione Crescere e con il sostegno del Comune di Arezzo, Estra e Coingas. Un progetto che vede come target di riferimento i ragazzi con disabilità ma sempre con un atteggiamento di inclusività insieme ai ragazzi normodotati. Quindi siamo felici e orgogliosi di avere dei feedback positivi da parte delle famiglie perché riusciamo a colmare un disagio che le famiglie si trovano purtroppo a dover gestire che è quello di dare degli spazi ludico, sociali e ricreativi ai ragazzi per stare insieme, giocare insieme e aumentare le proprie competenze sociali. Il sostegno di Estra perché crede in questo progetto che è un progetto che si ripete ormai da anni, che è nato dall'emergenza Covid ma che ha trovato una sua validità, un riscontro importante anche rispetto alle famiglie e ai ragazzi più deboli. Il sostegno a famiglie con realtà importanti ma anche il sostegno a una generazione che è un po' in difficoltà secondo me attraverso strumenti come lo sport, la musica, la ricreazione è sicuramente da mandare avanti e da sostenere. Il progetto si svolgerà in due fasi, la prima da giugno a dicembre e la seconda da gennaio in poi con l'organizzazione di campi solari, attività di doposcuola e laboratori extrascolastici rivolti a bambini ed adolescenti tra i 10 e i 18 anni, sia normodotati che diversamente abili, stranieri e non, con l'obiettivo di dare ai giovani e alle loro famiglie risposte più adeguate ai loro bisogni ampliando l'offerta formativa a loro destinata. Per noi è un grosso orgoglio aver avuto questa possibilità per dare veramente un supporto concreto alle famiglie in quanto molte volte si sentono sole e abbandonate perché appunto i figli hanno una difficoltà, mentre questo progetto dà la stessa possibilità a tutti e quindi è la vera essenza del progetto ESER. Questi bambini noi li coinvolgiamo in tutte le attività della scuderia, quindi sono loro in prima persona a prendersi cura del cavarlo, a dargli da mangiare, a spazzolarlo e poi alla fine a salirci sopra, poi hanno fatto delle passeggiate nei boschi e il tema di quest'anno è quello dell'acqua e noi abbiamo proprio l'uscello che attraversa la scuderia e questo elemento dell'acqua è importantissimo per i bambini perché dal mare al fiume ok, a bambini piace l'acqua e quindi è l'occasione per insegnarci che come tutte le cose della natura va tutelata e preservata. E cominciano a comparire ad ogni angolo della città, abbandonati, buttati per terra, nei posti più impensati, in luoghi dove è possibile anche inciamparci addosso, come abbiamo visto troppe volte anche nelle nostre grandi metropoli. Si tratta dei monopattini elettrici a noleggio che puntualmente quando si scaricano vengono lasciati lì per giorni in attesa di essere rimossi, ma vederli gettati nei cassonetti non si era mai visto. Una foto è apparsa in un gruppo Facebook in cui si vedono questi oggetti nei bidoni dei rifiuti. Un gesto idiota ha definito l'assessore della mobilità Alessandro Casi aggiungendo che contro l'imbecillità e l'incività delle persone è difficile combattere. L'assessore ha anche annunciato una serie di controlli più severi da parte della Polizia Municipale. In questi primi giorni avevamo deciso di alzare il livello di tolleranza delle infrazioni, ora arrivano anche le multe. Tra l'altro, ricordo una cosa, l'utente che abbandona il monopattino in centro storico fuori dai punti di raccolta continua a pagare il noleggio e rischia contravenzioni salate perché il mezzo è geolocalizzato e ha la targa, oltre che per lo stesso noleggio è necessario l'utilizzo di un documento di identificazione. Cominciano le iniziative in vista della stagione calda a Retina, presentata la quarta edizione dell'aperitivo d'estate in Fortezza ad Arezzo. Il servizio. Una serata di festa nella collina che domina la città di Arezzo, la Fortezza, torna la quarta edizione di aperitivo d'estate in calendario martedì 20 giugno dalle 18 alle 23. Una iniziativa ideata e promossa da Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione e il quotidiano La Nazione con la regia di Confcommercio. È un appuntamento importante perché sancisce la partenza dell'estate, un evento voluto dal quotidiano La Nazione, dalla Regione Toscana, in collaborazione con la Confcommercio e con tanti altri attori. L'interpretazione che Arezzo e la Confcommercio di Arezzo dà in questa circostanza è straordinaria perché è legata all'eccellenza del territorio in un contesto come quello della Fortezza che quest'anno abbiamo scelto che è altrettanto eccezionale. Questi gusti, i nostri ristoratori, i nostri ambasciatori più importanti che sono quelli che ogni giorno si dilettano con tanta passione a presentarci dei piatti sopraffini e stupendi ci faranno assaggiare non solo le loro creazioni ma soprattutto ci faranno vivere all'interno di questa bellissima fortezza un appuntamento importante che ovviamente ci farà affacciare come diceva all'estate e alla nuova stagione estiva. Noi nell'Arcobaleno d'estate domenica 25 e subito dopo presenteremo un libro che daremo in omaggio ai nostri lettori con le foto bellissime di Alinari sulla nostra città e lo daremo il regalo il 29 giugno e quindi questo arcobaleno non avrà solo un valore turistico e anche un valore di esaltazione delle nostre eccellenze gastronomiche ma racconteremo tramite un libro che vi garantisco veramente bello, la storia di Arezzo tramite foto bellissime in bianco e nero che raccontano la nostra storia. Officine Rilancio Arezzo ha organizzato una passeggiata patrocinata dal comune di Arezzo con i nostri amici a quattro zampe dal titolo Ora Bau, un bel percorso di gruppo a piedi dal parco del Prato a quello di Villa Severi per terminare al Pertini in viagiotto ad Arezzo. Chiara Sadotti Guinsaio alla mano, scarpe comode e soprattutto la compagnia dell'amico a quattro zampe Così Ora Bau, la passeggiata organizzata da officine Rilancio Arezzo, partita dal parco del Prato per poi attraversare via Le Buozzi per raggiungere il parco di Villa Severi e terminare infine la camminata al parco Giotto. Grande passeggiata con Ora Bau, l'associazione di ora che ha avuto questa lodevole iniziativa di appunto prendere i nostri amici a quattro zampe e fare questa passeggiata e vedo una grande partecipazione, un grande amore, una grande sensibilità nei confronti dei nostri animali quindi sono veramente soddisfatta. Ad accompagnare il gruppo è stata una guida esperta che ha raccontato la storia e le curiosità dei luoghi che sono stati percorsi. Mi sembra che nel frattempo gli animali abbiano fatto amicizia. Sì, 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 sono tutti amici, tutti contenti, è una bellissima giornata. Parte del ricavato dell'evento che ha avuto il patrocinio del comune di Arezzo è stato devoluto al canile comunale. Intervento su un grande pioppo di 16 metri d'altezza e un metro e mezzo di diametro in Valtiberina perché è pericoloso, gli operai acrobati hanno messo in sicurezza la pianta. Sentiamo. Triclimber in azione sulla reglia dell'Acqua Viola. Siamo in Valtiberina e qui un pioppo di un metro e mezzo di diametro ed oltre 16 metri di altezza minacciava la sicurezza idraulica del corso d'acqua. Al suo interno, infatti, un'enorme cavità che rendeva la pianta instabile. Per eliminarla è stato così necessario un intervento acrobatico. L'intervento consiste nella rimozione di una pianta, quindi è un intervento di tipo puntuale o in condizioni ormai di pericolosità. L'intervento viene fatto con l'utilizzo della tecnica del Triclimber, infatti ci sono gli operai ora al lavoro in quanto la posizione della pianta non permette di procedere in altro modo, in quanto si trova su una sponda che ha da una parte una strada e da una parte una proprietà privata e quindi non permette di avere sufficiente spazio per procedere altrimenti. Piccola parentesi sportiva, ma non di gioco, perché si sono celebrati oggi a Palazzo del Pero i funerali di Mirko Pogini, dirigente Tuttofare del settore giovanile dell'Arezzo, scomparso lo scorso 9 giugno a causa di un incidente stradale mentre si trovava al volante del furgone della squadra. Forse un malore improvviso ha causato la caduta del mezzo in un fosso laterale che costeggia la carreggiata per lui che si trovava a poca distanza dall'abitazione e non c'è stato nulla da fare nonostante il trasporto all'ospedale San Donato. All'esecchio hanno partecipato gli staff tecnici della formazione Amaranto-Giovanile in tutta di rappresentanza. Per Pogini l'ultimo saluto da parte degli ex Amaranto come Avantario e Sussi che lo avevano conosciuto quando erano alla guida delle squadre del vivaio fuori dalla chiesa, moltissimi ragazzi insieme ai genitori in un'atmosfera di grande commozione. E questa era l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Arezzo TV. Grazie a tutti!